È stata inaugurata la nuova farmacia comunale a Santorezzo, nei pressi del polo commerciale. Si tratta della terza farmacia Pharmacom presente sul territorio di Montemurlo, voluta dal Comune per portare servizi sanitari di prossimità in una zona attualmente scoperta. Sì, apriamo oggi la sesta farmacia di Pharmacom, la terza sul territorio, in una zona dove il servizio pubblico non era ancora presidiato e dove c'era una necessità importante e anche abbastanza imminente di dare risposte alla collettività. I servizi sono quelli tipici delle farmacie comunali, cioè il presidio territoriale, la consulenza farmaceutica, la dispensazione dei farmaci, dei parafarmaci, di tutti gli altri prodotti tipici della farmacia, oltre all'autoanalisi, alla misurazione della pressione, ai servizi di prima necessità senza urgenza e senza prestazioni sanitarie che si danno nelle farmacie usualmente. La farmacia presterà i suoi servizi a partire da mercoledì 5 giugno, con orario continuato dalle 8 alle 19. Oltre alla vendita di farmaci, è presente anche un laboratorio galenico per le preparazioni di medicinali personalizzati, un vero e proprio luogo di salute dove trovare personale preparato e pronto a fornire consigli e consulenze, oltre a una serie di servizi diagnostici di base.